Il 2 aprile si parla di bilancio in Consiglio Comunale, però tra i soldi, tra le tasse che pagano i cittadini, molti vanno a Roma, ma poi il Comune ne ha un beneficio e ritornano questi soldi? I dati sono eclatanti perché 1 miliardo e 600 milioni ne ritorna solamente lo 0,28%, i padovani versano più di 7 mila euro e ne ritornano solamente 22, quindi capite qual è la differenza tra quello che si versa e quello che non ritorna assolutamente nel territorio padovano. E questo ci fa capire come deve essere fatta una spending review a livello nazionale e i tagli devono essere a livello ministeriale, invece molte volte i tagli vengono fatte alle amministrazioni locali dove arrivano sempre meno risorse. Meno risorse che portano ad un aumento alla tassazione locale che c'è stata in tutta Italia, c'è stata anche a Padova fino all'anno scorso, ma da quando siamo arrivati noi abbiamo scelto di tagliare ben 11 milioni di euro di tasse tra IRPEF, Tari e con l'ultimo taglio dell'IMU sui capannoni industriali dello 0,5%. Intanto domani a Padova arriva Alessandra Moretti, esponente del PD e quindi diretta mandataria delle politiche del governo. Penso che sarà un'energia figuraccia come quella che ha fatto l'altro giorno sulle quote latte dove pensava di trovare un parterre di allevatori che magari la ringraziavano per le quote latte, per Equitalia, per le sanzioni. Stessa cosa sarà domani quando arriverà a parlare magari agli imprenditori del Veneto dicendo che Renzi ha tagliato le tasse e che ha regalato 80 euro lo scorso anno a chissà chi perché non le ha praticamente ricevute nessuno. Mentre la tassazione è al 68,2% e questa è la tassazione reale. Quindi è diciamo quasi indecoroso presentarsi ai Veneti che sono i più tartassati d'Italia a cui torna il minimo possibile quando tu sei al governo e non fai assolutamente nulla. Quindi diciamo alla Moretti e ad Alfano e a Renzi invece di mandarci migliaia e migliaia di immigrati e clandestini nel nostro territorio che rimandino un po' di tasse che sono i soldi nostri, i soldi invece che rimangono a Roma. Grazie.